Allora, scusate se non ho preparato slides perché non ho avuto dei problemi per cui solo all'ultimo sono stato messo in condizioni di poter venire. Allora, cercherò di parlare un pochino dei contenuti che ho sintetizzato in alcune note ieri e poi di rilevare alcuni punti che hanno sottolineato i relatori precedenti per fare un quadro metodologico che sia coerente e continuativo con tutti i passaggi tecnici che sono contestualizzati dai processi che noi tutti viviamo. Quali sono questi processi? Sono i processi che poi portano a quegli esiti negativi che vengono, i colleghi hanno analizzato prima come tanti, sugli esiti riferiti agli eventi sia relativi alla composizione di questi vaccini che non sono tecnicamente vaccini e sia riferito agli esiti e diciamo all'eziologia nesso causale tra la somministrazione e il vaccino. Il cd cosiddetto vaccino. Ricordandovi un aspetto chiave che le soglie di rischio che loro hanno costruito per definire l'algoritmo dicono i 14 giorni. Ricordatevi una cosa che l'autorizzazione CMA che è stata data che sarà argomento successivo di un'altra magari volta la stessa Europa ti dice che la CMA, la condizionata, è un escamotage per favorire l'industria perché se in un AIC tradizionale tu presenti il protocollo per richiedere l'autorizzazione alla sperimentazione e questo protocollo ha dei bias, cioè dei difetti tecnici, non viene approvato. Quindi un produttore, un'azienda farmaceutica, viene bocciato un protocollo è come togliere in sintesi per chiarire dei punti alla patente. E allora si sono inventati la CMA sull'aspetto emergenziale. Questo come quadro... Quindi riferito appunto a questi punti è fondamentale capire che prima di valutare gli esiti, gli eventi che sarebbero tecnicamente eventi sentinella, non reazioni avverse, perché qui bisogna parlare con i termini di governance nazionale, cioè qui sono stati somministrati in Italia, non a Singapore. Quindi bisogna parlare con quello che è i criteri della governance nazionale, ok? Perché il cittadino quando firma il consenso informato lo firma relativamente alla propria governance che distribuisce eroga al servizio. La prestazione che in questo caso è territoriale perché i vaccini sono stati recentemente messi, inseriti nei livelli di essenziale assistenza nella medicina preventiva territoriale. Nell'asset normativo della governance italiana c'è proprio uno degli eventi sentinella e ricordatevi che per lo stesso Ministro del Saluto è un solo evento sentinella, uno solo. mi sembra, anche se qui non è possibile assolutamente fare la stima per il non rispetto del decreto ministeriale 15 aprile 2015, che è quello relativo alla farmacovigilanza attiva, cioè sono quelle disposizioni operative per le procedure farmacovigilanza che impone per la sorveglianza attiva, quindi sempre relazionandosi alla governance italiana con quello che è la gestione degli operatori sanitari, partendo dal modulo ADR di segnalazione, che mi sembra che o lo fanno i poveri disgraziati che subiscono un danno grave o morte, perché questo si parla soprattutto, e non certo gli operatori sanitari. Anzi, per una logica di primo di produzione, questo è un altro problema, sono invitati dall'industria a non segnalare niente, perché se te sei pagato per somministrare vaccini tipo catena industriale, più ne fai, più guadagni, è chiaro che non devi toccare gli interessi dell'interlocutore barra produttore. Su questa base vi dico che c'è uno di questi eventi di sentinella, che basta uno pesco, questi sono termini della governance ministeriale, che è il famoso protocollo di monitoraggio eventi di sentinella, che io per anni ho insegnato finché non mi hanno scacciato. Praticamente questo evento sentinella che ci riguarda direttamente, ce ne sono tanti correlabili, è morto a grave danno per l'errore della terapia farmacologica. Se te mi dici che è un vaccino, che è tutto un costrutto teorico marziano inventato da loro, anche perché sapete bene voi che è sempre stato dato, non all'interno delle governance di regime ordinario, ma come evento straordinario tipo in campagne vaccinali, senza il controllo dei LEA, quindi ovunque, e non secondo i criteri dell'81-2008 sulla sicurezza in ambiente ospedaliero, come invece dovrebbe essere fatto. E nonostante ciò, vi ricordo che il nostro amico Matteo Renzi ci ha fatto due regalini del 2017 fondamentali. Col DPCM 12 gennaio 2017, il nostro amico Matteo inserisce i medicinali di fase 2 sperimentali, nei livelli senza assistenza, cioè quindi riprendendolo dal modello FDA, perché qui ricordatevi che tutto ciò che accade è succursale delle decisioni americane, che hanno fatto scattare questi meccanismi emergenziali e è sancito dal 2002 nel piano di preparazione di risposta per le attività di bioterrorismo, cioè non so se vi rendete conto, quindi attacchi partendo dall'antraccio e torri gemelle del nostro amico Saddam, loro hanno attraverso il Bioshield Act, che è un atto proprio una Pub Hubble Glow, ok, americana, del 2004 dove sancisce e lì nasce il, che parlava prima il coso del docente di economia farmaceutica, sanitaria, come si chiama? Matteucci? Matteucci. E lì nasce il PPP, cioè il pubblico privato, ma il pubblico privato nasce culturalmente, questa è la propria storia della governance, anzi che c'è la storia della medicina, nasce come presupposto emergenziale. Cioè io in presa, con la national security, il segretario della homeland security e della defense, ok, costruisco un asse con il barda, quindi, che è un filtro tra la difesa e high tech, no, ciò che è ricerca high tech, dove praticamente faccio accordi, sto parlando annualmente dai 5 ai 7 miliardi di dollari annui, ok, dove io sancisco contratti di ricerca per lo sviluppo di vaccini per CBRL, cioè per attacchi bioterroristici di carattere chimico, biologico, radiologico e nucleare. Ok? Qui nasce questa cosa, quindi loro beccano 5-7 miliardi di dollari annui, Stati Uniti, dal 2002, poi ribadito il 2004, col Bioscilla, e praticamente fanno ricerca per fare questi vaccini emergenziali. Ma io vi domando, scusate, perché a Napoli dicono cani, scune e fesse, se io faccio ricerca per un vaccino, dove mi becco 7 miliardi l'anno di dollari, che ora vale anche fra un po' più dell'euro, e devo essere pronto per quella gente patogeno che arriva. Ma se è un attacco bioterroristico, Cioè, che mi metto? Saddam, scusa, a che ora la mandi l'antrace? Così io mi... Cioè, qui c'è una distorsione logica. Se io investo, FDA, Defense e Homeland Security, investo 7 miliardi all'alta finanza, e gestisce Big Pharma, BlackRock e Pinkopal, e mi dici, mi produci un medicinale innovativo dove io posso bypassare le sostanze attive mai approvate. Sostanze attive cosa vuol dire? Microorganismi, interventi dedicati, e composti chimici. Ok? Quindi composti chimici e microorganismi uguali a sostanze attive. Tutto non approvato, ok? Tant'è vero che nell'UDR, nella lista degli agenti chimici europea, le sostanze attive che hanno usato qua, non c'è niente. Quindi come fai te a controllare una sostanza attiva che, ricordatevi, un'altra cosa che dovete sapere, avete sentito parlare dello PSUR? Sapete cos'è lo PSUR? Allora, è l'attuale rapporto di aggiornamento periodico della sicurezza, che è attivo da una trentina di anni. Ok? Quindi quando si facevano con lo scalpello i medicinali. Però c'è un problemino. Che questi signori si sono inventati pure le norme armonizzate. Le norme armonizzate sono norme che regolano la registrazione di un farmaco, nelle quali queste norme prevedevano da una vita già l'aggiornamento 2. Dove questa tipologia di aggiornamento periodico, perché ricordatevi, non abbiamo a fare ragionanza attiva, che bene o male, anche se ci rimettono le penne gli italiani, è l'unico controllo attivo su quello che è la valutazione del rischio-beneficio. Cioè, se c'è un... Se fosse stato attivato, come avrebbe dovuto essere, se fosse rispettata la colonna italiana, il flusso informativo farmacovigilanza gestito dall'AIFA, obbligo dell'AIFA, cioè, te avresti avuto una lista di stragi, di morti, ma certificati. Vabbè, potrebbero falsificare il flusso, come fanno sempre, però comunque ufficialmente certificati. No, quindi io non ho. Una valutazione della governance nazionale, che ha tutte le responsabilità, amministrative e medico-legali, perché li fa qua nel nostro Paese, che non fa quello che dovrebbe fare. Abbiamo un report di aggiornamento periodo della sicurezza, che è vecchio di una vita, non è stato volutamente aggiornato dall'Europa, conseguentemente dall'Italia, dove ogni sostanza attiva avrebbe dovuto avere la sua scheda specifica di sicurezza. Perché? Perché quando tu incroci i dati a livello centrale, te vedi quello che è schiantato, quello che ha il danno grave, con la relativa sostanza attiva. Quindi hai un upgrade di valutazione per il nestrocausale. E questo non c'è. Quando la matrice più pesante per causare il danno è proprio quella. Dove poi ci sparano, sentivo parlare prima di nanoparticelle, dove lì c'è un altro mondo, tossine da discutere. Però ecco, quindi vi voglio far capire a che livello siamo. Quindi l'altro valutazione per valutare il rapporto rischio-beneficio, quindi la sicurezza, è il risk management plan che fanno le singole case. Peccato che loro dicono che quando il rischio è ben definito lo devi mettere il dato che non c'è nel risk management plan. Missing information. Quindi siamo a dei livelli, cioè qui non è che si può parlare, criticare, perché di solito in medicina si critica un bias all'interno di una linea guida dove ci può essere un interesse moderato, e qui si entra in una logica di conflitto di interessi, del singola, del personaggio che fa la procedura clinica in ospedale, peggio vabbè, se è una linea guida nazionale, ma qui si tratta che hanno fatto così e così, qui non è che c'è da criticare, qui c'è da non accettare niente di questo, perché ogni cosa è sbagliata. Io non mi sono mai divertito così tanto, anche se è triste dirlo in questo contesto, analizzare, qui ci sono quattro governance, c'è il WHO, l'FDA, l'Europa e l'Italia che si incrociano. Quindi è un lavoro di circa 1940 normative tra decisioni, regolamentazioni, direttive, raccomandazioni, DLGS, decreti ministeriali, decreti del Presidente della Repubblica, procedure linee guida OMS, regole FDA, scusate il fiorentinismo, è un bel casino. Ok? Allora, dico, tornando a bomba, quindi per far capire che per parlare di eventi, sentire, bisogna sapere che è fondamentale dirlo che, e è folle, che noi firmiamo un consenso informato per una sperimentazione di serie OGM, come scrivono loro nelle norme, non io, loro, che praticamente doveva essere attivata la seconda che è stata utilizzata dal 31 gennaio del 1922, non è stata attivata e se fosse stata attivata non sarebbe partito teoricamente nemmeno un solo arruolato nella sperimentazione. Ricordatevi che si sta vaccinando ora, anche ora, fino a luglio 2024, è un arruolamento forzato con l'obbligo. Ok? Perché hanno più violato la normativa sui soggetti vulnerabili. cioè è una cosa folcloristica e praticamente hanno usato una direttiva abrogata del 2001 dove penetrava un elefante e potevano fare qualunque cosa dopodiché quando hanno fatto le loro belle cose quando hanno poi addirittura già partendo da marzo 2021 quindi a due mesi dall'inizio della sperimentazione di massa hanno fatto una norma l'Europa per la quale possono completamente cambiare la metodologia di produzione di ceppi antigeni all'interno della stessa autorizzazione. Questo era già regolato precedentemente al covid. Cioè io produco una cosa la produco con delle pseudo regole poi ti dico porca miseria ma qui ci sono delle varianti già due mesi appena iniziato la sperimentazione di massa quindi devo cambiare metodologia ma io ho già fatto prima io produttore con l'Europa un contratto 2020 già considerando le varianti quindi già a monte si sapeva che si faceva più dosi dosi il cui la metodologia dovrebbe essere fatta proprio in sede di sperimentazione il dosaggio è un elemento fondamentale quindi bisogna conoscere tutti quegli elementi che vanno prima di tutto dall'allerta pandemica voi sapete che le allerte pandemiche cioè quella da cui si valuta si percepisce il rischio la percezione del rischio il rischio le allerte pandemiche su cui tutti ci siamo terrorizzati da questo covid sono gestite dai social network cioè arriva l'Amanacco di Topolino che mi dice l'Amanacco di Topolino di Singapore ragazzi sta arrivando oddio oddio emergenza pandemia capito quindi non sono dati certificati da un health system da un sistema sanitario pubblico meglio pubblico rispetto qui no qui c'è Topolino e tutti allora fanno scattare il meccanismo questo sistema allerto GHPIN è dell'OMS però gestito ufficialmente dal Canada e voi sapete il ruolo del Canada questa cosa e cosa voglio dire quindi bisogna conoscere dall'allerta la gente è patogeno ragazzi miei qui ci hanno detto che c'era un pericolo in rischio di vita normativamente il rischio di vita è causato non dall'evento pandemico ma dal medicinale dato in risposta cioè non so se vi rendete conto di quello che vi sto dicendo qui avete capito dopo di che l'allerta il motivo per causare l'emergenza quindi il rischio di vita però cosa è successo il rischio di vita allora devi ritornare ai film che vedi da Hollywood dove ci sono tutti quelli con gli scafandri qui non mi sta la Roma con gli scafandri tutti con la muta tutti tocchi quello madonna attenzione quello è quattro almeno quattro a parte sono quattro no qui il rischio biologico era due quello delle influenze stagionali quindi ci hanno fatto percepire un rischio pesantissimo quattro ma il rischio biologico attuato è due cosa prevede il rischio biologico due quindi virus semi influenzali parainfluenzali con attenzione attenzione con vaccini che il datore di lavoro qui penso ai miei cari amici di Osa che approfitto per ringraziare perché mi sono stati molto vicini quando hanno anche cercato di distendermi e loro sono stati molto molto vicini a me e li ringrazio saluto saluto Gianluca detto Drago saluto Giancarlino più che Giancarlino Giancarlone e tutti gli altri che sono stati molto cari e quindi niente quindi questo quindi avremmo con rischio due tenete presente che anche il rischio tre ti dice le stesse cose del due che ci devono essere vaccini e profilassi efficaci a disposizione ok anche il tre è praticamente uguale l'unica cosa cambia la minima maggior diffusività nella comunità il quattro no il quattro è quello che ci hanno dovuto far credere cioè dove c'è un virus sconosciuto non si sa cos'è quindi se non si sa cos'è come fai te a preparare anticipatamente il virus il vaccino e averlo a disposizione se non conosci la gente patogeno ok quindi noi abbiamo avuto vissuto questa vicenda con un livello di rischio biologico due che è diventato solo tre come attualmente è nel col tre direttiva del 3 giugno 2020 di UE quindi noi siamo ancora nel tre quindi dove ci doveva essere tutto pronto e tutto soprattutto efficace e a casa mia sperimentale non è efficace e qui si scende in quello che era un servizio sanitario normativamente normativamente non a livello di applicazione serio che è della legge istitutiva dell'SSN l'83378 che aveva cinque principi madre che ufficialmente ci sono anche adesso che sono efficacia efficienza sicurezza qualità appropriatezza delle prestazioni che devono essere rigorosamente basate sull'evidence based medicine che vuol dire che io nella filiera di catena di produzione del prodotto che può essere un medical device un dispositivo medico o un farmaco io devo garantire tutti quei processi di qualità dove subentra che cosa in frattempo l'etica dei controllori e l'etica etica che può essere etica medica quindi codice ideontologico la bioetica delle sperimentazioni è l'etica dell'amministratore e qui tocchiamo il tema conflitti di interesse di prima conflitti di interesse è corruzione ricordo a chi ha parlato di corruzione che loro stessi nei documenti è vero che loro fanno sull'aspetto di corruzione addirittura fanno gli esempi di quello che sta succedendo esatti cioè scrivono è vergognoso bisogna mettere subito provvedimenti a chi fa queste cose che sono quelle che stanno facendo adesso e poi ve le racconto e vi fate altre grasse risate quindi quello che bisogna fare quando si parla del step finale perché l'evento nocivo è l'elemento finale bisogna capire come ci siamo arrivati perché il risk management serio quello dove si vedono i bias tecnici messi apposta e ecco perché hanno falsificato definizioni e metodologiche tutte le definizioni e metodologiche di processi esempio il vaccino il vaccino prima per la era era stimolava la risposta immunitaria e doveva proteggere dalla malattia due giorni prima che venisse immesso sul mercato questa metodica mRNA che non è mai stata né valutata né regolata né normata dall'Europa figuriamoci dall'Italia ma peggio ancora non è stata né valutata né regolata né normata la metodologia di valutazione del nesso causale degli eventi di sentinella causata da questa vaccina infatti con questa metodica perché semplicemente perché chi la gestisce e produce è l'algoritmo di Bill Gates e chi lo gestisce normativamente lo gestisce i produttori di vaccini quindi tutti quegli eventi che voi vi sorprendete che sappiamo qualche volta da un giornale o da o da dai social che cioè quelli veri quindi che sono che cosa le conseguenze dei rischi definiti attenzione non rischio potenziale rischio definito e ce l'hanno tutti in mano loro dove loro applicano la metodologia di valutazione dove c'è anche la probabilità che loro dicono che la probabilità non si può definire perché non è normata e questo è vero quindi io costruisco una metodologia a monte affinché io possa scartare il 99% dei casi prof un minuto per concludere grazie si dicevo da dove viene e quindi allora è fondamentale capire che cosa la prevaluta la prevalutazione la valutazione preclinica e clinica che è quella che di solito si fa in laboratorio su quei parametri di per esempio fondamentali della farmacocinetica che è fondamentale per valutare quello che è l'impatto l'effetto sull'organismo farmacodinamica sicurezza farmacologica stabilità e questi se ne sono fregati però cosa fanno ora quando hanno finito tutto perché ormai la metodica e tutti i vaccini e farmaci che servono soprattutto i farmaci in risposta alle patologie che i vaccini covid creano perché non hanno preparato il problema vaccino e i farmaci che secondo loro sono in risposta alle malattie che causano vaccino quando hanno finito cosa hanno fatto da siamo siamo a settembre un mese fa a giugno quant'è un giugno due mesi fa quant'è tre mesi fa hanno inserito a livello internazionale che cosa la farmaco genomica e la farmaco genetica la valutazione e qui scusate due minuti è fondamentale e qui si scende su un dettaglio che vi fa o scioccare o sbellicare 2004 legge 138 del 2004 è una legge per diciamo le gravi rischi sulla pericolo di vita diciamo così ricordo benissimo però il concetto è questo che è e fa tre cose e è successiva a che cosa a quell'atto di preparazione risposta degli atti bioterroristi americano e stesso anno del del bio shield pubglow su contrattualizzare l'industria per produrre e ricercare questi famosi vaccini sperimentali poi quando c'è i virus però anche a quel punto non si sa che cos'è allora per quale motivo hai dato i soldi quando con la metodica mRNA in qualche dieci giorni tu fai è una piattaforma dove ci metti una sequenza di qualunque cosa e ti dà tipo stampante 3D il giochino questa legge 138 indovinate questo è importantissimo chi c'è istituiscono il centro contro le malattie quello che è sancito per attuare i piani pandemici ok quindi vi voglio dire quando parlate di quel coso come si chiama zambon e guerra ricordate la polemica zambon quella è tutta costruita d'arte per rimbecillire le persone perché questi signori non solo nel 2004 con questa 138 fanno istituiscono il CCM che doveva fare in sintesi piano pandemico ok fanno un accordo con gli Stati Uniti attenzione per sviluppare ricerche e attività su bioterrorismo malattie rare e oncologia terminale che sono quelle tre cose che ci troviamo ora dove hanno e vedi medicina personalizzata perché malattie rare si basa sul principio di medicina personalizzata hanno inserito le malattie infettive cioè Stasars con le malattie rare e i terminali che hanno una valutazione del rischio totalmente diversa qui si parla di 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 la patologia non regredisce e l'hanno inserito le malattie infettive perché perché le malattie rare e i terminali hanno degli enormi vantaggi sotto il punto di vista della del governo della sperimentazione ok quindi emergenza inserisco il virus all'interno di questo giochino uso compassionevole cioè noi siamo tutti considerati malati terminali cioè gente sta benissimo il mio amico drago alto 5 metri è un malato terminale tecnicamente è un malato terminale perché è obbligato a salvarsi la vita quando il pericolo del rischio della vita è dipeso dal medicinale risposta finisco l'ultima cosa quindi ccm accordo sugli stati uniti per questa cosa quindi preveggenza terza cosa viene istituito l'in gm che cos'è è l'istituto nazionale genetica molecolare genetica molecolare bioterrorismo aspettate aspettate chi era il direttore scientifico 2006 quindi 2004 2006 tutt'oggi un certo Sergio Abregnani vi ricordate il nome cts ruoli straordinari istituto sulle sanità ferma ma mica è finita è giocato sta arrivando questo signore cosa fa fa un bel brevetto sulle monoclonali cede all'ingm una parte quindi soci si attivano questa loro società entrano in un venture capital che raccatta l'infinità di soldi e poi stanno producendo i monoclonali con un nostro amico di Parma del plasma con cui ho avuto il piacere di parlare una settimana prima dove gli dissi che aveva sbagliato tutto perché lui doveva quando c'era questo plasma che dava questi risultati lui doveva attivare un HTA un Health Technological Assessment perché quella era l'unica soluzione non c'erano ancora i vaccini e non sapendo le norme della governance non l'ha fatto dopo una settimana non c'era più modo di parlarci perché sapete la fine allora vi voglio dire qui ci sono non so se avete capito questo signore Sergio Abrignani che quindi c'è un accordo tra lo Stato CCM con gli americani FDA bioterrorismo per ricostruire genetica mutuicolare quindi da noi ci fanno credere che è un virus che naturale è un salto di specie no? sta cosa sto pangolino sta scimmia sto vampiro pipistrello ok? quindi ci fanno ci fanno credere che questo è il problema in realtà emergenza militare ecco perché segreto militare più parte la difesa quindi noi quello che noi prendiamo prendiamo pure il loro segreto militare perché la roba è loro noi siamo gli sviluppatori del programma vaccinale vedi Lorenzin Italia paese di strategie vaccinali fermatevi questo venture capital dove c'è a Bregnani l'NGM dentro al 51% quindi controllo societario si chiama Principia questa Principia ve lo ricordate chi è? è quella per cui hanno fatto saltare il nostro amico Pecorelli ex direttore dell'AIFA quello che andò con la Lorenzin guerra a Washington con Obama baci e bracci negretto le abbraccia tutti Italia paese strategie vaccinali e lui perché? perché per tutta una logica di corruzione di Principia saltò quindi vedete come c'è una governance della corruzione come è correlata nel tempo e quindi l'unica cosa vi volevo dire è quando si parla di Bill e Melinda Gates no? la Bill e Melinda Gates se voi non conoscete i meccanismi americani non è la fondazione quella della cultura dove vedete dai soldi a bambini per andare al teatro le fondazioni americane soprattutto nascono dal modello della charity di Rockefeller che le le charity non erano per aiutare li chiamano loro difettosi che è la stessa norma dei medicinali difettosi dell'85 usata tuttora quindi pensa le norme per dimostrare che il medicinale è guasto è insicuro è una norma dell'85 si chiama medicinale difettosi questi difettosi sono erano i figli carcerati alcolizzati dall'epoca non c'era la droga poi l'hanno fatta arrivare dopo ma questi non servivano per aiutarli no servivano per fare una selezione per archiviarli per registrarli poi con le crisi finanziarie che loro costruivano nei vari paesi sto parlando della finanza globale questi poveri poveri aumentavano questi malati aumentavano questi bambini disgraziati aumentavano i figli criminali aumentavano quindi loro creavano un arruolamento forzato perché poi costruivano le condizioni per renderli numericamente più alte e loro li selezionano quindi le fondazioni post quindi tipo quella di Gates cosa fanno sono praticamente per farvi capire del limite delle SRL dove loro acquisiscono i profitti del trust ok dove loro mettono stock option tutte cose finiscono poi la fondazione quindi lui si ritrova cioè prima di tutto una ripoltura di denaro mostruosa anche sotto il punto di vista fiscale ok dove che dice porca miseria io ho trasformato la mia fondazione nel reale proprietario di tutti i miei denari adesso li devo investire come manipolando i paesi creando problemi creando pandemie creando il terrore e quindi investendo i soldi in modalità ricordate si saprà air market ok quindi lui quando dai soldi in modalità air market cioè io ti do i quattrini però tu devi fare quello che voglio io ok che è diverso dare i quattrini e poi uno decide quello che fa ok grazie professore grazie del suo intervento grazie grazie a tutti